Tutti quelli che mi scrivono in DM Sei scappato a Bangkok per paura di Fabio Russo Ma secondo voi Io devo arrivare fino a Bangkok Per scappare da Fabio Russo? Fabio Russo Ma ci cociamo le uova sulla tua pelata Non l'ho detto io Comunque sono a Bangkok un mese Per cazzi miei Poi Fabio Russo è stata una coincidenza Casualmente ci dovevamo vedere sabato La mattina sei partito Sei scappato come un ratto Perché tanto tu fai così Fai i danni e poi scappi Perché ti vuole picchiare tutta Italia E poi chi è st'amico tu che mi dice Che mi deve cucinare le uova in testa? Ah sì? Tigri fatemi una cortesia Trovate la pagina di questo se lo conoscete Che cazzo sei tu che ti permetti Di dirmi che mi cucini le uova in testa? Appena ci vediamo poi vediamo Sono proprio curioso Ma questa non è una minaccia Io non minaccio mai nessuno È una p***a